Con il maestro Scotolati che ci illustra il 5x525, un minuto di personaggi vicentini e dintorni. Allora io faccio qui la svelta, prendiamo a caso i sindaci, c'è una generazione di sindaci che ho elencato qui, a cominciare dal numero 8, Giorgio Sala, che fa il cui anagramma, Giorgio Sala, fa Radio a Iosa, si vede il numero 8, no, qui a destra, Radio a Iosa, Giorgio Sala, da Giorgio Sala si passa a Antonio Corazzini, numero 93, il cui anagramma quasi perfetto fa di Corinto e il Torroncini, Antonio Corazzini, si passi a Enrico Ulvec, numero 77, ecco qui, il cui anagramma quasi perfetto fa diuretico shock, Enrico Ulvec, qui numero 77, diuretico shock, all'attuale sindaco qui si riconosce dall'occhio, 159, anagramma quasi, chi lava i curati, Achille variati, ecco, è rimasto perfetto. Grazie maestro, qui Vicenza, YouTube ed approvassimo isole sparse.